Entro la fine del 2022 saranno pronti 90 parcheggi a raso nell'area di Portaleoni consegnata ufficialmente oggi dalla terra al comune. Sono i tempi dettati dal sindaco Pierluigi Biondi nella giornata di consegna. Noi stiamo aspettando il via libera della sovrintendenza al progetto esecutivo che nel frattempo abbiamo già redatto. Parere della sovrintendenza per l'interferenza con le mura urbiche nell'area che guarda verso Portaleoni. Una volta ottenuto il parere potremmo fare la validazione del progetto e mandarlo in appalto. Si tratta di un quadro economico di 1.380.000 euro quindi l'importo dei lavori verosimilmente sarà sotto al milione quindi un appalto non di dimensioni enormi. Io credo che entro settembre possano essere affidati i lavori e poi i tempi di realizzazione. Per tenerci larghi perché con la burocrazia italiana bisogna sempre andarci con i piedi di piombo diciamo che per il 2022 questi 90 posti saranno a disposizione del centro storico. Lo schema di accordo era stato già approvato qualche tempo fa in Giunta. Si tratta di uno spazio grande che ha 50 unità immobiliari più 5 non residenziali che sono nel più completo abbandono in posizione strategica a ridosso delle mura urbiche. L'Ater avrà dal comune una serie di appartamenti da mettere a disposizione degli inquilini. L'idea è questa. Quest'area così non poteva essere utilizzata dal 2012. Per Ater non poteva essere ristrutturata perché il piano prevedeva per il comune dell'Aquila dei parcheggi e comunque non abitativo. Per cui si trattava di un'area che creava solo oggettivamente problemi e rischi e responsabilità per l'ente. Abbiamo concordato di valorizzare nella relazione al valore di vendita degli immobili al centro dell'Aquila utilizzando dei parametri quali quelli dell'UMI e siamo arrivati ad una valorizzazione di 10 milioni e mezzo. Quale circa, quale corrispettivo abbiamo avuto 52-56 appartamenti sparsi tra quelli della ricostruzione dell'Aquila. Tutti di nuova fattura. La regione con il sobraccio armato Ater è riuscita a intercettare questo bisogno, questa volontà politica dell'amministrazione comunale di realizzare parcheggi in quest'area all'interno delle mura senza ledere le prerogative degli inquilini Ater. Quindi un atto istituzionale e amministrativo degno di nota. La notizia importante è che il Comune vuole far partire in un unico blocco altri due lavori essenziali, il capirulana di collegamento dal megaparcheggio di Colle Maggio a Piazza Duomo e l'ascensore di collegamento tra il terminal e via Lerendina dopo l'accordo con il Consiglio regionale nell'ottica di una progressiva e sempre più massiccia pedonalizzazione del centro.